buongiorno ben ritrovati carissimi telespettatori di fano tv oggi è il 30 di maggio 2016 questa è la rassegna stampa del mattino come sempre puntuale alle 7.30 in diretta poi con le repliche durante il corso della giornata cominciamo dal santo del giorno oggi è un santo anzi una santa della quale abbiamo visto anche dei bellissimi film santa giovanna d'arco di giovanna d'arco diciamo semplicemente questo che parliamo soltanto della fine della sua vita aveva 19 anni quando è stata messa al rogo in piazza è divenuta simbolo di fede di eroismo e di amore per la patria venne proclamata santa nel 1920 alla conclusione del primo conflitto mondiale ma parliamo ripeto di una santa che visse negli anni insomma nel 1400 1431 allora andiamo adesso il sole è sorto dai 5.29 tramonterà le 20.41 andiamo a vedere il tempo oggi avremo ancora qualche residua pioggia nell'entroterra poi ancora invece il tempo migliora durante il corso della giornata lungo la costa con temperature temperature senza variazioni di rilievo rispetto alla giornata di ieri domani martedì 31 di maggio cielo sereno poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo e i venti di brezza tesa sud occidentali abbiamo però del tempo che varia variabile nel corso della settimana per l'indugiare della depressione in ingresso nella giornata di domenica quella di ieri appunto già entrata quindi porterà un po di cattivo tempo allora ieri è stata una giornata comunque che qualcuno ha utilizzato per fare per andare a prendere un po di sole altri per partecipare a qualche iniziativa qualche festa paesana e in tanti hanno partecipato per esempio ieri invece alla inaugurazione della pista ciclabile della quale parlano tutti i quotidiani questa mattina con gli inserti di pesero come il messaggero è nata la pista più bella quella di baia flaminia il sindaco ricci inaugura la ciclabile ribatte al comitato contrario alla cementificazione un'opera ambientale straordinaria da luglio la navetta per il parcheggio tra i due porti a centro pagina invece la fotografia sul processo che riguarda l'uccisione l'assassinio di ismaele lulli 17 anni di sant'angelo invado mario uno degli accusati scrive alla madre di isma la vittima ha scritto una lettera la mamma di ismaele purtroppo non sono riuscito a salvarlo dice e scrive lui mentre contro i furti e la criminalità in arrivo i gruppi di whatsapp la mozione di siamo pesero sarà discussa oggi in consiglio comunale e dunque questo documento servirà per contemplare appunto l'attivazione di questi gruppi whatsapp nei quartieri della città di pesero attraverso i quali i residenti dei appunto di questi quartieri potranno scambiarsi informazioni utili a prevenire furti e rapine nelle abitazioni ma anche altri tipi di reati legati alla micro criminalità una modalità già attivata in alcuni comuni dell'entroterra come monte calvo in foglia dove ci sono già due gruppi whatsapp anche numerosi per le dimensioni del paese con più di 50 aderenti e adesso andiamo nelle pagine interne del messaggero perché per esempio si parla dell'arrivo dei profughi che sono stati accolti ieri già nei centri della provincia arrivati 50 nuovi profughi questo è il titolo già smistati nei centri di accoglienza sono ripresi dunque gli sbarchi dei migranti nel mediterraneo e vista la nuova emergenza anche pesero farà la sua parte sono arrivati ieri 50 profughi provenienti da diverse parti dell'africa dopo il viaggio della speranza sono stati identificati dalla questura sottoposti a screening sanitario e trasferiti nelle strutture di accoglienza gestite dalla cooperativa labirinto e dall'associazione incontri per la democrazia scrive il messaggero che nell'accordo firmato in prefettura pesero è sparita però l'ex scuola del sacro cuore di pesero al centro di polemiche erano state raccolte anche delle firme però non è detto che poi possa essere riutilizzata in futuro dalle pagine del Corriere Adriatico invece andiamo su quella di Fano eccola qua sicurezza sono state chieste norme più flessibili alla capitaneria di porto di Fano alla guardia costiera i concessionari di spiaggia infatti vogliono unire le forze per controllare le spiagge tra le richieste a capitanerie comune la limitazione della zona balneabile entro la linea delle nuove scogliere festa della mietitura tra passato e futuro a falcineto l'incontro tra generazioni diverse nell'epilogo di Fanogeo approvato il bilancio della storica cooperativa sotto invece storia e motori al pincio raduno di auto d'epoca dalle balilla alle ferrari passando per le topolino il fascino dell'iniziativa del club lucio ricci e mentre sulla rapina quella rapina qui rimasto vittima un ottantenne a villa san biagio rapina nessuna nella sua non a villa san biagio nella sua casa a san biagio che non c'entra nulla con villa san biagio dopo il colpo dei quattro questi quattro banditi tra cui c'era anche una donna ricordiamo a casa di quest'anziano non c'è però ancora nessuna traccia di questi malviventi probabilmente sono dell'est europa giovani dell'est europa così scrive il giornale hanno portato via il comodino della camera da letto che conteneva 300 euro l'anziano aveva sentito suonare la porta della casa isolata in cui vive poi con un pretesto uno di questi quattro giovani entrato in casa e poi da lì ha aperto le porte naturalmente a tutti i suoi complici e tutti gli altri sulla pagina di besero invece la ciclabile bella e ambientalista il sindaco all'inaugurazione del tratto di baia flaminia della bicipolitana parla di barriere verde e di dune che verranno comunque sistemate ripristinate così gli ambientalisti possono stare tranquilli questa infrastruttura è già completata per il 90 per cento ma per finirla del tutto ci vorrà ancora un po di qualche mese nel 2017 sarà terminata con la qualificazione turistica di tutto il quartiere poi nell'altra pagina del messaggio del corriere adriatico la pagina di senigallia ubriachi risse la movida le feste serali sono d'allarme rosso i giovani sono stati soccorsi per abuso di alcol erano al limite del coma etilico scatta la vigilanza privata urla e botte in strada a cesano gruppi di ragazzi sballati seminano il terrore la pagina invece di pesero di pesero e provincia racconta questa mattina di una di un po di paura per un'ambulanza che è rimasta in bilico su un dirupo questo perché perché in una stradina l'ambulanza si era messa un po da una parte ma c'era dell'erba tagliata non l'autista non ha capito bene che lì evidentemente sotto non c'era c'era solo l'erba sospesa ma non c'era non c'era il terreno e di conseguenza si è adagiata su un fianco il pericolo causato dalla manovra per evitare un'auto inseritasi nel percorso di una gara podistica questo è il l'articolo che troverete a pagina 12 del corriere adriatico di oggi poi si racconta della battaglia del metauro che c'è stata a monte felcino e sotto invece da urbino i paesaggi di pericoli che incantano lo sguardo vittorio sgarbi presenta la mostra mentre alle sue spalle c'è tullio pericoli che lo ascolta lo ascolta quasi incantato la pagina di fanno del corriere abbiamo già vista andiamo adesso per chiudere la rassegna sulla copertina del resto del carlino che è tutta per questa storia raccontata e che arriva da piobbico dove uno studente ed un pompiere in pensione strappano dalle fiamme una ottantenne che rischiava davvero di morire arsa viva bruciata davanti al cammino della casa in cui vive da sola a piobbico per l'appunto e dentro il carlino appunto racconta con l'intervista andiamo sulla pagina giusta eccola qua l'intervista a questi due eroi chiamiamoli così perché comunque hanno salvato una vita c'è il racconto di questo studente che studia all'agraria Filippo Blasi 20 anni e questo pompiere in pensione Luciano Ubaldi 65 anni tutte e due sono di piobbico e hanno salvato questa donna che si trovava davanti al cammino in fiamme la donna si chiama Rina una pensionata di oltre 80 anni come dicevo residente a piobbico in via Lighieri era come impietrita immaginate voi la paura di questa povera donna che non sapeva più cosa fare incapace come è emerso dopo di muoversi dalla casa dove vive da sola nonostante le fiamme però stessero iniziando a divorare tutto quello che c'era intorno al cammino con la certezza di propagarsi a tutto l'appartamento davvero complimenti e soprattutto l'intuito poi profughi profughi in ciabatte vedete in autostrada al casello dell'autostrada della 14 di Pesaro alle 13 circa sono arrivati in ciabatte accolti dalla polizia e dalla croce rossa in tutto erano 46 poi la protesta di oggi che fa saltare la raccolta dell'immondizia nei turbini in sciopero i rifiuti restano in strada scusate avvelenati i cani dei pastori Pintus una fine terribile siamo ad auditore sempre in provincia di Pesaro fine terribile per quattro esemplari la famiglia ha un'azienda agricola sono partite naturalmente le indagini mentre sulla salute incontro di Urbino Capoluogo con l'equipe del dottor Leone con Demi tumori ginecologici diagnosi e prevenzione per salvare le vite sempre dal resto del Carlino anche qua tutti in pista per la ciclabile alla Baia bellissima dice Ricci contento non ha rivali dal punto di vista paesaggistico e anche ambientale perché la gente non andrà più in Baia con la propria macchina ma a questo punto andrà semplicemente in bicicletta è tutto grazie per aver seguito la nostra segna stampa ci vediamo stasera alle 20.30 per occhio alla notizia del telegiornale arrivederci grazie per aver guardato la notizia del telegiornale